Avevamo ragione, le due settimane di zona rossa ci consentono di poter finalmente passare alla zona arancione perché si è dimezzato il numero dei contagi, si è ridotto il numero delle perdite umane. Noi abbiamo avuto ragione, pensavamo di dover anticipare la zona rossa per evitare la degenerazione che ci avrebbe costretto per tutto il mese di febbraio a restare chiusi. È chiaro che la zona ragione non è il massimo, noi puntiamo alla zona gialla e perché no alla fine a quella bianca. Ma dipende da tutti, dipende dalla responsabilità di ciascuno e di tutti. Intanto io sono contento che abbiamo potuto finalmente guardare con realismo alla esigenza concreta di tutelare il diritto alla salute e il diritto alla vita nonostante le tante incomprensioni. Speriamo che da Roma arrivino presto i sostegni agli operatori economici di cui c'è tanto ma tanto bisogno e questa crisi di governo non ci aiuta ad accelerare i processi di sostegno concreto e celere. Speriamo che arrivino i vaccini, eravamo i primi in Italia per campagna di vaccinazione. Abbiamo somministrato oltre 150.000 dosi secondo il protocollo stabilito dal Ministero della Sanità e dall'Istituto Superiore della Sanità. Abbiamo neutralizzato i furbetti che non mancano mai in ogni regione, in ogni territorio. Chi ha sbagliato pubblico dipendente pagherà. Non bisogna mai speculare o cogliere occasioni di opportunità a danno di altri, a danno degli indifesi, a danno di chi ha diritti da tutelare e da esercitare prima ancora di altri. E poi, lasciatemelo dire, sul fronte scolastico, così come ci eravamo impegnati di fare, stiamo riaprendo lentamente. Già giorno 1 potranno tornare in classe le seconde e le terze medie inferiori. Sulla prima media, come sapete, non c'era stata assolutamente interruzione dopo la ripresa festiva, così come non si è interrotta la didattica nelle scuole elementari. Se continua a calare il contagio, anche per le scuole superiori si potrà tornare in presenza il lunedì successivo, l'8 di febbraio. È un processo graduale, improntato a prudenza. Deve essere così, fra mille incomprensioni, fra tesi e opinioni diverse e divergenti. Dobbiamo procedere con prudenza. E poi speriamo, come avevo detto in qualche altra occasione, che nel mese di aprile, ai primi di aprile, si possa finalmente arrivare ad una riapertura che metta gli operatori economici nelle condizioni di tornare a lavorare e quindi di tornare a guadagnare e quindi di uscire da questo tunnel dove il buio sembra avere spento ogni speranza. La speranza rimane in vita e lo abbiamo visto e lo vedremo ancora di più nelle prossime settimane. Ma la speranza va alimentata non soltanto dalla forza di ognuno di noi, ma anche dai comportamenti di ognuno di noi. E sono sicuro che presto vinceremo anche questa battaglia.